Per tu, vi abbiamo lasciato così... E iniziamo così... No, non me lo dire, guarda... Uccio... Non me lo dire... Uccio... Sto chiude, sto chiude, che devo fare l'inter... Devo... Non me lo dire... Non me lo dire... Va bene, ti chiamo... Uccio... Ehi, ti chiamo... Non me lo dire... Ciao, ci sei... Non me lo dire, non me lo dire... Ciao, 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 ciao... Ma chi era? E non me l'ha detto... Come non te l'ha detto... Iniziamo così...